Se l'ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate oggi, oggi festa memoria della Cuore Immacolato di Maria. Il Cuore Immacolato di Maria che è associato al Sacratissimo Cuore di Gesù, anche nello spazio, ieri era la solennità del Cuore di Gesù, oggi del Cuore Immacolato di Maria, dice come questi due cuori sono insentibilmente uniti per sempre. Ciò che unisce il Cuore Immacolato di Maria a quello di Gesù è proprio il momento del suo concepimento virginale proprio dello Spirito Santo. Quel Cuore è il Cuore materiale di un uomo, viene concepito da Maria per mezzo dello Spirito e intessuto nel suo grembo. Quel Cuore materialmente viene dal Cuore di Maria. La madre e il figlio dunque umanamente sono simili, molto simili, perché l'umanità del Cristo, come sappiamo, viene solamente da lei. La sua immacolatezza di cuore vuol dire la sua immacolatezza di anima, non solo perché è creata così, ma perché è preservata dal peccato originale, quindi non viene contaminato mediante quello che è l'eredità di un corpo, spezzando quella linea di continuità da Adamo e Dave in avanti. Dunque lei concepisce in modo immacolato il Cristo e il suo corpo, come il corpo di Maria, è purissimo e la sua anima, il suo cuore è purissimo. Non vi è ombra di peccato. Il Cuore Immacolato di Maria è chiamato a generare una nuova umanità, che è il Cristo, nuova Eva, nuova Adamo. E la redenzione dell'uomo è la loro missione. Redenzione vuol dire riconquistare i cuori dei figli che sono macchiati dal peccato, riconquistarli facendo leva sulla loro buona volontà, rigenerarli in modo tale che diventino quello che non sono mai stati, ovvero, santi e immacolate, il cospetto di Dio, così come San Paolo si ricorda. Questa immacolatezza nostra, che non è di origine, ma è di riconquista, avviene per mezzo all'opera dei due cuori di Gesù e di Maria, che, operando la volontà di Dio per riscattare le colpe degli uomini, ottengono dal Padre questa grazia. Gli uomini vengono affidati a Gesù e Gesù li tiene in mano e li lava con il proprio sangue e Maria partecipa con la propria sofferenza di Madre del Redentore, Madre che deve essere materna e rigenerante nei confronti di coloro che partono come assassini del figlio, ma che devono diventare uomini nuovi, redenti. E questo è ciò che noi siamo. In lei, dunque, noi veniamo rigenerati e quello che è l'orrore che è nel nostro cuore e che noi produciamo nel mondo viene vinto dalla immacolatezza di Maria perché Dio pare ha stabilito così. I suoi, dunque, numerosi interventi nella storia dell'uomo sono volti a darci la certezza che ella vincerà. Questo culto del cuore di Maria infatti si nutre anche delle parole stesse di Maria nelle sue apparizioni, quelle che chiamano apparizioni mariane. A Lourdes io sono l'immacolata concezione, colei che concepisce in modo immacolato, il Cristo, e dunque può rigenerare noi. Il mio cuore immacolato alla fine trionferà è la promessa di Fatima. Dunque vuol dire che Dio padre mette nelle sue mani un progetto di redenzione dell'uomo che nel contesto ha fatto di lotta contro il male e contro il maligno in modo tale che l'azione del figlio di redenzione nostra non vada perduta. è lei dunque che si contrappone al principio del male sulla terra e nello spazio delle creature che è il demonio. e se questo ha grande potere su di noi nel mondo la grande promessa è il mio cuore immacolato vincerà. È per mezzo dunque di Maria che noi otteniamo di rimanere legati e uniti al Cristo e cosicché la sua opera di redenzione non vada nullificata. Ella sa avvicinarci sa avvicinarci al Cristo e la ha questo compito di rigenerare in noi quell'immacolatezza che è pagata dal figlio ma che deve essere cresciuta in noi attraverso la cura materna. Questo è per noi il cuore immacolato di Maria. Dio vi benedica.